in contemplazione del mio armadio scelta del look di san valentino difficilissimo perché bisogna essere super sexy e di scelta purtroppo ne ho tanta difficile ma a proposito di san valentino io venerdì 8 febbraio sarò ospite a dj asgan away dovete ascoltarmi cavalli perché vi darò dei consigli perfetti per rendere la vostra serata di san valentino super super piccante per stuzzicare il vostro lui e per rendere felicissima la vostra lei cavalli vi aspetto venerdì 8 dalle 14 vi bacio grazie